Benvenuti a SAC Solution Forum, il nuovo evento di Ethos Media Group che intende far convergere il mondo della sicurezza fisica con la sicurezza logica sulla via del GDPR. Giornata interessante questa a Milano, esperti del settore security manager, consulenti professionisti ma anche interessati, cittadini, persone che vogliono capire cosa è cambiato con il GDPR e anche come utilizzare al meglio le tecnologie che quotidianamente noi utilizziamo dagli smartphone al cloud, alle varie forme di sicurezza che potrei e che forse sarebbe meglio adottare per tutelare al meglio i nostri dati, a volte anche dati personali come possono essere le fotografie dei propri cari che vogliamo proteggere da mani poco raccomandabili. Sex Solution Forum credo che sia un ottimo trampolino di lancio per tutte le varie aziende sia distributrici che produttrici per presentare le proprie soluzioni. Quanto si è visto anche con un match che c'è tra la sicurezza fisica e la sicurezza logica che l'armonizzazione tra questi due mondi comporta un processo culturale, formativo e informativo molto importante che va dagli esperti di settore alle aziende ma fino agli utenti utilizzatori finali. Un aspetto che mi ha colpito è il fatto di aver visto in sala installatori, imprese, ditte individuali ma anche soggetti che operano all'interno di imprese e anche dei privati, quindi questa diversità che ha consentito anche di confrontarsi con mondi diversi e anche rispondere a domande diverse. Questo evento permette di confrontarci anche con altre aziende del settore e condividere le nostre conoscenze in modo che queste informazioni siano sempre più esaustive e complete. SEC Solution Forum è globale, convergente, versatile, innovativo, open, interessante, dinamico, Sicurezza al quadrato, sicuramente intenso, molto utile, stimolante, confronto, futuro, avanguardia, innovazione, passione. Cyber Security for Dummies è una cosa da cui partire. Abbiamo parlato di normativa, abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato di mercato, abbiamo avuto esperti, abbiamo avuto tecnici ed abbiamo avuto avvocati. Voi continuate a seguirci su www.sexsolution.com Viva Privacy Viva Privacy Viva Privacy